E' stata svolta un'indagine appunto dai carabinieri. Sfruttamento di lavoratori e caporalato a bellocchi di Fano. Sono stati scoperti ed arrestati dai carabinieri del gruppo tutela del lavoro di Venezia in collaborazione con i colleghi dei comandi provinciali di Pesaro Urbino, Latina e Ravenna, quattro egiziani ritenuti responsabili dei reati di intermediazione e sfruttamento del lavoro aggravato in concorso commessi nei confronti di decine di stranieri, per la maggior parte loro con cittadini. Il provvedimento è messo dal GIP del Tribunale di Pesaro su richiesta della procura a origine dall'attività investigativa condotta tra i mesi di febbraio 2020 e marzo 2021 dai militari del nucleo carabinieri spettorato del lavoro in una serie di impianti di autolavaggio delle province di Pesaro Urbino e Limitrofe. Le indagini hanno consentito ai militari di individuare un'imperesa con sede legale a bellocchi di Fano operante nel settore del lavaggio di auto che reclutava prevalentemente egiziani e sfruttandoli in diversi impianti del settore. I lavoratori, impiegati senza alcun dispositivo di protezione e non rispettando le normative anti-Covid, erano inoltre pagati 3 euro per ogni ora di lavoro a fronte dei 6,51 euro contrattualmente previsti. Era inoltre imposto loro il pagamento di 150 euro per un posto letto all'interno di alloggi in pessimo stato, privi di riscaldamento, con infissi danneggiati e con servizi genici del tutto inadeguati. Gli egiziani inoltre venivano impiegati anche per 12 ore di lavoro al giorno. C'è stata tutta una parte amministrativa che ha consentito di verificare come questi proprietari di questo autolavaggio non avessero versato contributi per circa 150.000 euro, contributi che dovevano essere versati in favore dei cittadini egiziani che venivano sfruttati per il loro lavoro che avevano effettuato. L'attività investigativa svolta dai carabinieri ha consentito poi di accertare l'impiego in nero di 18 lavoratori, due dei quali sprovvisti di permesso di soggiorno. L'attività è stata un'attività molto importante che dà un riscontro di come l'arma dei carabinieri e in particolare la specialità della tutela del lavoro sempre supportata dall'arma territoriale possa condurre queste attività in contrasto di questo fenomeno del caporalato che come abbiamo dimostrato non è un fenomeno che si identifica come generalmente conosciuto con lo sfruttamento del lavoro in agricoltura ma anche in altri settori. Quindi è un approccio strutturale che viene fatto perché andiamo a tutelare diversi beni giuridici quelli dei diritti della persona, i diritti dei lavoratori ma anche i diritti della libera concorrenza.